...con troppo birignao questa sera per cui ci è piaciuta molto la tua canzone prendilo per un complimento, poteva non sembrarlo sembrava un insulto, invece era un complimento Cioè Gigio riesce con il suo savoir faire a far sembrare insulti e anche i complimenti comunque era un complimento forse siamo noi grazie, minimale dai, minimale, un complimento senti ma, i tacchi quanto erano alti? ma allora poi cos'altro vuoi fare? non si può dire, è un segreto ma vuoi sbagliarne anche nella camera d'albergo o non ti fermi così? era una curiosità però o meno, non ho capito no, era la mia curiosità perché le hanno inquadrati ripetutamente e qui abbiamo scommesso sull'altezza, capito? ah, cosa avete scommesso? Vi dico solo se avete visto io 64, ho sbagliato? sì, un po' troppo per difetto no, vabbè, anche Luciana ha dei bei trampoloni, quindi è una bella lotta possiamo aiutare un po' assolutamente Giusy, una curiosità, domani tu renderai omaggio a Enrico Ruggeri cantando Il mare d'inverno noi lo ammazziamo stanotte, Ruggeri Ruggeri e anche la Bertè, se vogliamo esatto, resa famosa, ancora più della Bertè ma lo farai con due ospiti molto particolari che non sono due cantanti devo dire ma due bagnini? sono Alessio Boni e Alessandro Haber due attori ah però, grandi molto simpatici tutti i due come è nata l'idea, un'idea tua e un'idea della casa discografica? no, vabbè, io avevo già conosciuto Alessandro Haber aspettando con lui per il suo ultimo album e insomma sapevo che un giorno avrei ricambiato quello splendido in dito e bella l'idea tu sai cosa rischi domani ad essere in diretta con Haber sul palco? tu lo sai io non vivrei sereno tu ovviamente può fare qualsiasi cosa, nel bene e nel male ecco, Alessio Boni e poi Boni insomma Boni e Bono con Alessandro Haber, esatto sono molto simpatici hanno lavorato in città anche delle persone umanamente senti ma, ovviamente non ci puoi anticipare cosa faranno attenzione, scusaci eh, sarà una sorpresa va bene, va bene per quale posizione ti candidi per la classifica finale? un numero? in quale posizione? ma sì, ma diciamo sempre il 7 è il mio numero il 7, benissimo anche il mio grazie ciao Giusy ciao e attenzione è arrivato il momento è arrivato